Buonasera stasera a voi bello spettatori e voi spettatrici siamo in una veste più riposona non so come dirlo come si dice una veste infatti la luce non è allora io ho voluto fare questo video per due motivi uno per ringraziare i miei suoceri che ci hanno regalato dei cuscini stupendi che dove ci dormiamo bene è comodissima guardate quindi ringraziamo il papà e la mamma di Osvaldo abbiamo messo memory all'aloe vera sì sì infatti perché lì proprio si stabilizza il problema e poi perché Osvaldo si è comprato un tablet finalmente uno tutto suo dell'LG come ti sembra prima Kito? il massimo che c'è adesso LG Pad si chiama LG G Pad sono fissati con la G lì in Corea non so perché visto che tutti l'hanno fatto vuoi dire la tua su Matteo Ponzano? a me piaceva sinceramente come persona non mi perdevo mai ogni appuntamento fra lui con lui e Matteo Max Bugani sai che ieri Max l'hai sentito? si che l'ho sentito però ci vorrebbero anche delle registrazioni tipo dei virtuali podcast ieri per chi non ha visto non ha sentito Movi Radio ieri Max Bugani ha salutato Osvaldo perché è uno dei suoi estimatori quindi premettendo io non mi inquadro perché sono in desabiet premettendo che a noi Matteo Ponzano mancherà più a Osvaldo che a me perché io onestamente non è che mi era antipatico ma non è che lo vedevo più di tanto ho fatto un hangout anzi Matteo se mi senti io e te dovevamo fare una cosa a tre io te e Osvaldo ti ricordi? poi è andata nel dimenticatorio scherzo un hangout a tre comunque io penso che nel movimento ci sono altre belle persone come Matteo che sono Salvo Mandarà e Silvio Fossi e se andassero loro alla cosa cosa ne pensereste Osvaldo? sarebbe una bella cosa Salvo e Silvio alla cosa che sono delle belle brave persone belle dentro e belle fuori ragazzi se volete dirmi cosa ne pensate di avere Salvo e Silvio sulla cosa magari lo potremmo proporre chi è che sceglie chi va alla cosa? Casaleggio? questo come faccio a saperlo? comunque io mi fido sia del cast io mi fido sia di Casaleggio e di Grillo anzi vorrei dire a tutti quelli che ultimamente stanno facendo troppo si sono svegliati dicendo Casaleggio di qua Grillo di là come i nostri nemici ecco diciamo nemici che forse non è il momento giusto per fare queste cose qua anche perché mi sa delle europee cioè Casaleggio e Grillo sono sempre stati così e io li amo perché sono così quindi chi non vuole più stare nel movimento se ne vada ma non rompa le palle no scusate la parolaccia però veramente sono stufa di questa dietrologia ora vi saluto a tutti scusatemi la mia schiettezza ciao e basta